Ma che che è? No quello che c'hai a noi faccia la foto Ah la foto Ehm Ah dove sei? E' scritto E' come questo per la nera Perchè faccia così Ok No io stavo a dare un calcio Da un destro Porco dia Se lo ricorda questo capito Ah questa è come schio come Far telefono questo Ma che diavolo Oh è mai rotto il caso Guarda come schioppa guarda guarda Ma di bocca sul tetto C'è sta un punto ricerca famosa Dov'è che tu sei pezzo di merda Dov'è che tu sei? Porca trovi Eh Lo credo solo perchè ha comprato da Nuvolari o paghi 7 piotte Ma non sta sto coso? Eh dobbiamo aggare al terminale Dove sta dopo il muro Devo cercare un modo per scavarcare No ma tipo Aspetta Ma questo Non si fa scarca No è troppo forte Oh Sopramatica I chi vuoi? Sono tipi di giacchetti Quelli che parano De plastica Eh però E' un tipo De giacchetto Ma no ho fatto Che? O sai a guerra? Si sono entrato Guarda sopra l'antenna C'è sta il punto da Hacker Guarda Vai col drone Che Oh c'è Devo entrata in sei contro Ma dove? Io non capisco In cima In cima I cavi dell'alta tensione Eh che c'è sa Ah e mica me lo segnava L'infa Non me lo segnava Ora andiamo Ma no quanti so Dei cattivi Cosa vuoi? Quanti ce ne stanno Io qua ho trovato Un coso per La macchina Come si chiama? La vernice Dimmi Eh Vaffanculo Alla terza Se sto sotto Oh ma qua c'è sta Una cosa da prendere Un testimonio pulare Se in quella descrizione Del sospetto Qua ma 9-1-1 Dichiari l'emergenza Prego Sta veniva Sta veniva pula? No no Let's be Ai proprio Ah Che cazzo ho fatto 9-1-1 Qual è l'emergenza? Mi serve un riparo Squadra controllare il perimetro Il vostro punto di contatto Attiva più dati Pim Pim Ma a me le FBI Sono stati chiamati rinforzi Ma no io vado a prendere la macchina Valla PIA Valla PIA Io intanto resto Qua corda Sì 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 Mi caglia Siamo in fuga Cazzo Eh stavo a far corpo a corpo Uno Resta dentro Resta dentro Resta dentro la zona Ma no Se no ti dici Tempo di riservi C'è sto E sei riservi al programma Vai 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 Rileviamo ancora un grande traffico di rete dalle vostre parti Ancora è così Pim Ok Allora Pim Fari uno Pim Fari due No Liscio Esci Pim 3 Ad areas Valle closer Lezzo Penzola dai di avvicinò non ti riesco a piano 97 98 99 belli non sono riuscito a 10 eccomi 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 ok a posto vieni ciò salito vieni 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 da me che c'è la macchina da corsa qua vicino eccola quanto serve una macchina da peccato io me la stavo a comprare quel deficiente è scappato sto suino vabbè tu scappi te dà una mano con le cose quelle quattro cose di pula ah no ok a posto completata ma no perfetto oh famose pure quest'altra scuola che sta a capire aspetta devo fare una cosa no vai ma ma oggi hanno fatto tutte le cose co op ma tipo c'è stava una stava sentita trasmissione de una sa di e la ceretta linguine fa male grazie al cazzo c'è come se me dici e la morte è brutta no poi entramo con la barca dentro città attenzione c'è qualcuno tanto solo sbatteremo questo ma no sono morire ok adesso io posso aprire il culo come si vede vabbè fam destra un boccato ma te posso da un destro sulle gengive come cristo comanda individuo il veicolo il veicolo ok aspetta che vado a prendere la chiave ma no fatto ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho cosa hai trovato ruba il veicolo vai 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 no il cane va affatto non danneggiare troppo il veicolo va bene vai ma no dai è monta ma che monta vai libero la strada vai mamma e as spostati ma prima occhio monta sbrigate adese fuggire tu non paga quello che ho fatto ma sai non schifo sto cosa vabbè passavo il tempo in fuga io vado a consegnare il veicolo bene 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 non c'è più lasciamo verte ma no tu non puoi capire mi sono dato mi sono dato la gru in faccia ottimo ma che cavolo ci dovranno fare con sto furgone che fa pure schifo e magari è quello che c'è sta dentro il furgone ma no eh forse da a vedere quelli che ho ammazzato per me c'è sta droga ma ci ho messo un'ora a fa 100 metri ho fatto ho fatto quindi vai così che consegnato il veicolo è Grazie a tutti